Nell'ambito della rassegna Marzodonna, un mese di eventi dedicati al mondo delle donne appunto, la sala giunta di Palazzo San Giacomo ha ospitato il convegno Ambiente Donna, le battaglie ambientali al femminile, promosso dall'associazione SEPOFA. Un'occasione speciale per discutere di donne impegnate nelle lotte ambientali, alla presenza, tra le altre, dell'assessora Daniela Villani, di Paola Nunes, senatrice con il Movimento 5 Stelle, e di Leonora De Maio, consigliera comunale di Napoli. Le donne, soprattutto per quel che riguarda l'ambiente, soprattutto Napoli e in Campania, sono state veramente una forza coessa contro tutto un sistema che voleva lavorare ai danni della cittadinanza. Le donne hanno avuto una sensibilità immediata e grazie alle donne, se oggi non abbiamo per esempio l'inceneritore a Napoli Est, ovviamente unito al nostro sindaco De Magistris che chiaramente ha appoggiato fortemente le istanze dei cittadini, anche l'idea che noi cittadini avevamo, all'epoca anch'io facevo queste guerre per la terra del fuoco a fianco alla senatrice che non era senatrice, Paola Nunes, e a tantissime altre donne, forse oggi comunque molto conosciute per queste battaglie, semplici cittadini e abitanti. Il senso dell'inceneritore che ben sappiamo ha delle nanoparticelle che rimangono per anni nell'area e quindi contribuiscono ai tumori, alle malattie, che in alcune strade della nostra regione, ahimè, muoiono intere famiglie. Ecco, questo devo dirlo grazie ad un sistema di donne che hanno fatto rete, che sono andate al di là di qualsiasi tipo di divisione e si sono unite per l'obiettivo.